Ventili signore e signori, sono felice di potervi comunicare che quello che vi dite è chiaro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non riesco a mai prendere me, non riesco a mai prendere me, non riesco a mai prendere me in questo. Grazie a tutti. No! Si vengono! Se voi ridete! Perché io rido! No! No! Si vengono! Si vengono! Si vengono! Si vengono! No! Si vengono! Non si vengono! No, 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 no.